Ciao, mi chiamo Fabio, vengo da Mestre Venezia e ho scoperto questa clinica, diciamo, navigando su Facebook, ho trovato, e ho chiesto se era solo pubblicità oppure era una cosa reale. Mi hanno risposto che era una cosa reale e io prima avevo fatto altri preventivi, sia in Italia che in Croacia, all'estero. Diciamo che come preventivo e come spesa reale c'è un abisso. Il lavoro che ho fatto io qua in Italia più o meno sarebbe costato dei 35-40 mila euro. Qua diciamo che è molto, 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 ma molto inferiore a quella cifra. Ho trovato del personale veramente qualificato, dei chirurgi, un chirurgo in gamba, il protesista in gamba, tutti i pazienti, tutti i cordi, tutti, come dire, cordiali col cliente e col cliente paziente e stavano attenti, mi chiedevano se mi faceva male, se potevano proseguire col lavoro, se avevo dei disturbi. La cosa che mi ha lasciato più colpito è che la sera dopo due ore di intervento ho ricevuto una telefonata per sapere come stavo, se andava tutto bene. Io penso che questo se l'avesse fatto in Italia non sarebbe successo sicuramente. che dire? Qua ci sono del personale qualificato che attendono i pazienti sia nella logistica sia in clinica, che è un personale qualificato, attento, hai poi il tuo perbisogno e ti segue comunque in tutto l'arco che tu rimani qua. Sicuramente migliorerà, anzi è già migliorata adesso. Poi con i definitivi penso che sarà una vita normale. Il mio problema è che io ho avuto un tumore in bocca nella lingua o capalingua, mi è stata trasportata a metà lingua, ricostruita, ho avuto 37-38 radioterapie e 3 keriterapie. Pensavo che non si potesse fare l'intervento per dire alterare la radioterapia, invece facendo le analisi, facendo le cose mi hanno assicurato che non potevo farlo. Ho fatto l'impianto come consigliato da loro, dall'architurgo della clinica, mi sento bene, mi trovo bene e penso che se dovessi consigliare a qualcuno sicuramente da loro farlo.